ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su streamer simulator un gioco streamer life simulator per essere precisi è un gioco dove simuleremo il lavoro di streamer ho deciso di portarlo per la prima volta insieme a voi e costa 16 79 su steam possiamo farlo uomo o donna ovviamente grafica come potete vedere io definisco grafica del disagio io mi randomize no no troveremo prima o poi quello che fa per noi ok questo è no un po troppo ok jo mentolo direi che vestito così va benissimo non mi fermo su ste cose abbiamo il torso tutta la configurazione di quello che siamo addirittura le orecchie da da elfo volendo va bene non voglio approfondire oltre diciamo che possiamo anche andare avanti occhi di gatto insomma di cosa fare ce ne sono dal tipo di corpo alle ai muscoli ma chi se ne farebbe andiamo avanti applichiamo i cambiamenti perché lo vogliamo provare questo gioco allora è una simulazione di vita totale quindi potremmo comprare i giochi decidere cosa stai mai decidere di fare follower di comunque provare a vivere con la professione della dello streamer allora questa talk to mozzy ok allora premi la freccia su per aprire il telefono dove abbiamo il nostro sì 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 va bene spegne la sveglia siamo svegli bellissimo il telefono mi ricorda anche dal dire simulatore giusto per dirla a dirla tutta abbiamo anche all'assistenza del per l'auto l'applicazione torcia cairosia si è è figata è l'athlete vabbè per l'applicazione salute l'applicazione di uber che si chiama zuber per farci portare nei vari posti abbiamo la mappa impareremo poi a conoscerla insomma però questa applicazione arriverà a essere in sviluppo e la banca dove al momento abbiamo 1215 dollari quindi possiamo mandare tutti i soldi alla carta di credito abbiamo nel portafoglio 801 ok ok abbiamo è bello che hai partito hai partito così test ok va bene questo è il telefono con la freccia verso l'alto parliamo a mozzy dog salve no vabbè parliamo j per le emissioni a parlare al cane però insomma questa qua sarebbe la catapecchia la casa dove viviamo con un vecchissimo televisore dobbiamo mettere le parti del computer nel bagagliaio dell'auto e andare a casa ma non capisco perché ci siamo svegliati qui vediamo un attimo dei controlli puoi cambiare premendo tab ok non abbiamo altri tasti skill panel con la x con la i l'inventario la freccia su ok allora vedete che con il tasto tab apriamo il menu che ci da l'igiene la necessità di andare al bagno il calore che la fame e l'energia insomma e col tasto i abbiamo il backpack con i soldi che abbiamo in tasca e così via non si può parlare al cane non si può interagire col cane dice di parlare tu mozzy ma mozzy presumo non sia no mozzy è questo ah no il cane di mozzy ho letto male ho sentito uno sparo non so cosa sia successo ma a breve scendendo in questa grafica del disagio sapremo tutto allora ah qua ci sono le parti del computer salve ti sei appena sparato allora colpi di pistola ho sentito alcuni colpi di pistola e infatti penso che non ci sono pensavo non ci fossero proiettili nella pistola il secondo colpo ma allora perché due volte il secondo proiettili erano svegliati vabbè il computer perfetto scherzo idiota dov'è il mio computer il computer è di fronte alla porta ora vai fuori dalle palle finisce la conversazione va bene ok carino ha sparato allora eccolo qua il computer la scheda video ah ok il processore è tutto molto interessante a parte io veramente non so ma non lo so sarà un asset o qualcosa perché sta grafica veramente brutta cioè io gioco a my summer care e questo è un tipo di grafica cioè non voglio farne una colpa perché a me piacciono queste cose però mi domando non si vede mai qualcosa di bello sarà la grafica così vabbè qua si vedeva la famosa foto lo screen sulla pagina steam dove dove si butta il monitor in strada però direi che in questo caso non lo facciamo lo mettiamo tranquillamente in auto prendi e metti lì ah bisogna aspettare un attimo perché ci mettiamo un attimino a caricarlo in macchina non vedo l'ora di guidare l'auto a questo subito questa è una scheda AT e si anche questo tirà da fuori ci vuole un po' vabbè e si quindi vabbè abbiamo anche la scheda madre che sembra essere una gigabyte se si può dire durability ah ok si ok c'è la durability di tutto cioè veramente è da malati di fare una cosa del genere va bene il mouse il mouse ci metto un attimo perché l'ho perso nelle tasche e poi cosa abbiamo la tastiera mamma mia quanta roba dobbiamo portare va bene va bene mettila lì tastiera cioè per farmi capire dobbiamo arrivare a casa dobbiamo anche scaricare tutto assemblarci tutto prendo posso metterlo posso metterlo nell'inventario hai capito te cioè praticamente le cose piccole le posso prendere e col tasto I le metto in inventario ovviamente aspettando questo tempo e poi abbiamo la ram perfetto ok abbiamo preso ipoteticamente tutto quindi andiamo a casa sali in auto allora WS per accelerare sterzare freno a mano l'h lo spazio per i freni e la Z nasconde i consigli ma i consigli li tengo anche adesso voglio capire dove devo andare perché dov'è casa mia come in tutti questi giochi si pattina si pattina sulla strada ma neanche troppo però devo dire allora la casa è là 700 metri in mezzo alla nebbia di 7 days to die stiamo andando a tuono no si scivola devo ammettere che dà un po' quell'impressione di scivolare però alla fine stiamo parlando un po' della grafica del disagio attenzione frena non si frena con la S ma si frena con lo spazio per quello che non riuscivo a fermarmi è una città che arriva da da Cthulhu qua sono veramente al disagio più assoluto questi tizi scusate prima era tutto giusto adesso è tutto distrutto non lo so mi scusi perdoni ma io starei andando a casa ma do cacchio eccola lì bruh ahahahah ahahahah eh si cioè questo può essere un gioco che mi potrebbe pariandere da morire veramente tanto e voi lo sapete va bene farina un pelino avanti ok ok mo che si scende H ok vorrei scendere però Q ok si scende con la Q ok bene questa è casa nostra setup in run your computer ok quindi prendiamo il tavolo e dove lo mettiamo ah questa è la zona di streaming di ripresa no vabbè lo posizioniamo mettiamo qua una stanzetta no ma posso sistemarlo come voglio per favore posso metterlo qui così no eh si ok con la Q vuoto la Q e la R ok mettiamo il tavolino qua così ma si dai meglio di niente siamo poveri e stiamo sullo sgabello di plastica ok e adesso andiamo ad assemblare il computer ma ci hanno devastato la casa i ladri vabbè insomma qua si dorme questa è una libreria la posizioniamo magari qui per terra sul muro qua qua me la fa mettere ok si si non c'è il bagno ma va bene allora iniziamo con l'assemblaggio del computer allora prendi il computer ecco in mano ok salve buongiorno allora andiamo avanti e il computer lo mettiamo lo mettiamo qui ok qua si possono montare all'interno le varie componenti quindi l'SSD su SSD il processore sul processore e la RAM sulla RAM ci sono 4 slot però vorrei posizionare il computer in modo un po' più logico tipo girato davanti perfetto a questo punto andiamo a prendere le altre cose che ci mancano che sono di qua in macchina allora questo il monitor ci sta in tasca si ci sta in tasca ok questo magari lo mettiamo in mano il monitor così almeno lo posizioniamo e il mouse lo mettiamo qua così la macchina è a posto figata che si può girare in macchina ok uno poi si va bene si ma stai calmo che a questo punto allora questa è la graphic card una se non posso mettere due scheda madre basta credo perché display card due ssd si due no siamo a posto posto prendo la tastiera la metto qua esco dal menu del computer e credo che siamo a posto così no posiziono qui perfetto e poi mi manca solo il mouse che adesso provvedo a tenere in mano e appoggiare così vedete che si eliminerà questa x perfetto press f devo andare al bagno urgentemente il bagno ce l'abbiamo o è disagissimo non ce l'abbiamo il bagno questo vende gelati eeeh no deve andare in bagno ma il bagno non c'è vabbè intanto abbiamo cose più importanti da fare ti può accedere al computer eeeh va bene quindi vediamo un attimo siamo a casa ah la casa è qua clicca per allargare la mappa ok questa è la casa qua abbiamo pompa di benzina e noi siamo arrivati da non so dove perché poi ci sono varie case che si possono comprare casa 2 casa 3 4 c'è zuber la pizza il tassista il delivery job il cassiere il cameriere si possono fare questo cos'è il dealer il club si possono fare un sacco di cose che ovviamente non vedremo in video perché è giusto che monitor il leggendario e mi piacerebbe tanto capire setup and run il computer eh ok si devo accenderlo magari il computer allora facciamo una roba adesso salve mangiamo un gelato non abbiamo fame compriamo il gelato no non vuole se non vuoi vuol dire che siamo ancora in pieno tutorial allora abbiamo avviato il computer ok allora adesso bisogna andare ad acquistare vabbè bisogna andare ad acquistare a registrarsi su blender website quindi blender c'è vabbè io non pronuncerò è lo speed test è un po' che connessione abbiamo e quindi vediamo cd speed test ma è lentissimo a caricare abbiamo una tua amica sì vabbè mi basta quello che ho visto dobbiamo andare su blender e registrarci allora blender ecco qua che è una sorta di 2 mega è veramente cioè non è un 2 mega è un 56k questa velocità qui browser allora 842.000 persone 882 stanno guardando gli stream ora è bello si possono andare a vedere gli stream si possono giocare giochi in questo caso ci chiamiamo indie 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 complete sì congratulation una registrazione completa poi loggati ora quindi indie log in mi sono loggato che vuoi stream con la 2 mega become a partner blender prime become a partner e vabbè vabbè devo andare adesso sul telefono e andare a togliere la spunta dalla mappa alla prima casa quindi come diceva il tutorial togli la spunta alla casa perfetto ora scarica ops che sarebbe obs quindi dove si va a scaricare si va a strammare quindi con zoogle andiamo a scaricare ops acquistare un microfono da zamazor allora ops gli assomiglierà anche immagino l'icona e vediamo un attimo bisognava entrare nell'app mi sa si vabbè vediamo se carica adesso perché ok infatti abbiamo steam abbiamo ops quindi scarichiamo ops ci siamo anche steam magari e poi compriamo un microfono da zamazor e manda tutti i soldi alla carta di credito dall'applicazione della banca sul telefono quindi lo facciamo intanto andiamo a vedere chi dà la mappa banca manda tutto sulla credit card ok adesso aspettiamo che finisca di scaricare questo programma qui bellino il browser però possiamo vedere anche il computer con le varie specifiche questo mi ricorda un pochino un pochino pc building simulator grandissime linee sì questo è il mio stomaco quindi intanto li continua quindi tranquillamente ho fame ho tanta fame ma voglio mangiare ma cosa posso mangiare perché lo vuoi un gelato non ho soldi nel wallet al momento vabbè moriremo qui di fame e lo schifio a zamazone è qua quindi scusate ma vado al negozio fisico ah no dal sito devo acquistare è tutto nuovo qui eh questo è il letto di pozzetto allora no niente devo comprarlo dal sito perché il negozio è troppo mainstream questa veranda qua in lamiera ma va bene allora abbiamo fatto io ho già scaricato steam giusto perché so che mi servirà quindi poi abbiamo spotty streamlap avest miner per la criptovaluta ovviamente scarica acquista un microfono quindi quindi sembra essere molto disagiato come gioco ma anche molto profondo molto carino e quindi mi sa che ho la vaga idea che bisognerà approfondirlo nuovamente con un altro episodio adesso intanto compriamo il microfono e iniziamo ad allestire la nostra sala di registrazione quindi abbiamo microfoni microphone stica compriamo quello di qualità cosa compro 1200 compro questo my orders ah no vado nel carrello e complete payment ok ah devo comprare una una toilette su zamazor ok si mi sta anche digerendo lo stomaco e ma come ah furniture ok allora bath toilet compro una toilet fortuna che non ho preso il microfono più costoso se non potevo vabbè ma che cacchio cambia l'assa riscaldata compro questa vabbè intanto complete payment e quindi paghiamo il cesso poi si va nuovamente su zoogle io spero che poi si possa fare un upgrade intanto vedete che c'è già l'icona di steam e di ops e adesso compriamo cibo dal food shop perché comprare un gelato lì al lato era un po' troppo allora food shop e real estate mi chiedo cos'è adesso poi andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a esplorarlo perché questo gioco mi incuriosisce molto per quanto lo streamer non è una delle professioni che mi piacerebbe simulare comunque vabbè compriamo una banana split ma una roba tipo più compri dei nachos compro dei nachos compro miso super io compro tutto complete perfetto adesso dobbiamo dormire salvare il gioco prima di morire di fame prima che ci arrivi tutto no anzi fammi vedere adesso se non ho già mangiato o deve arrivarmi effettivamente la roba adesso si va a dormire e si salva la partita però ancora prima voglio vedere cos'era real estate perché di cose da fare ce ne sono veramente tante e il gioco è uscito ad agosto quindi 16 euro non è tanto calcolando che ho trovato giochi che a questo punto avevo già mollato dopo neanche mezz'ora in questo caso lo direi di no sì lasciali lì sull'erba che almeno raffreddano allora ah real estate praticamente noi possiamo andare a comprare la casa ok 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 capito capito tutto ok andiamo a salvare la partita dormendo mamma mia che disagio questa press f to sleep ok turning left farting va bene va bene niente le missioni sono completate quindi possiamo iniziare a giocare seriamente quindi mangiamo mangiamo la miso soup it it ma scusami se io clicco qui prendo in mano e build cosa vuol dire build throw ah build è col sinistro ah ok e lo appoggio lì cos'è meno non prende tanta aria bene ragazzi allora come primo episodio sembra essere un gioco veramente figo veramente di di disagio e si vede eh sta sudando tra l'altro mi sta dicendo quindi fa veramente caldo quindi anche il fatto di resistere o meno durante uno streaming riuscire a streamare prima di stancarsi e di far scendere la resistenza è dovuto anche al fatto di ehm avere una stanza con una buona temperatura e anche lì dovremo vedete 30 gradi e dovremo prendere i condizionatori quindi andare a perfezionare un pochino la nostra stanza di streaming è un peccato che comunque un gioco così profondo così come tanti altri e border officer piuttosto che dagli diversi e moleto siano con questi modelli che non sono brutti ma sono proprio dipinti da disagio quindi c'è proprio decadenza e boh non lo so su uno streamer non si adatta molto comunque è un drag de la simuletra sì assolutamente ma su un gioco del genere è l'unica cosa che mi sento di di dire adesso e quindi niente adesso io lo apprendo qui fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao se volete altri episodi ovviamente dovete spolliciare e scrivere qua sotto nei commenti alla prossima ciao ciao